La decisione è stata presa nella recente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha convocato in un vertice riservatissimo il questore della capitale, Mario della Cioppa, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma Lorenzo Falferie e quello della Guardia di Finanza Paolo Compagnone per mettere a punto il potenziamento del livello di tutela del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Clima pesante e l'atmosfera che si respira in questi giorni sembra essere tutt'altro che rassicurante. Non solo a Roma ma in tutto al paese. I fatti di Trieste e le continue e sempre più dure proteste a Milano preoccupano. Come preoccupa la violenza che corre nella rete con fake news e teorie complotiste che alimentano senza controllo la rabbia dei cittadini. Una situazione che non può essere sottovalutata. Lo sanno bene al Viminale soprattutto dopo la non certo impeccabile gestione della manifestazione Nova Axe No Green Pass del 9 ottobre culminata nel vergognoso attacco alla sede della CGL ma anche nello sfondamento dei cordoni di sicurezza a Piazza Barberini che ha permesso a un fiume di manifestanti di arrivare a due passi da Palazzo Chigi e chiunque sia stato in piazza quel giorno si è reso conto di quanto fosse inadeguato il servizio di sicurezza e di come sarebbe bastato davvero poco per forzare i blocchi di carabinieri e polizia e raggiungere la sede del governo e dare vita a una Capitolili italiana.